E' stata inaugurata a Napoli la nuova sede di ALIS. A meno di un anno dalla sua fondazione sbarca nel capoluogo partenopeo l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, che conta oltre 1200 aziende associate tra autotrasportatori, aziende armatoriali e ferroviarie, terminal, agenzie e spedizionieri di tutta Italia. A fare gli onori di casa Guido Grimaldi, presidente di ALIS. Io sono napoletano e ho creduto moltissimo in questo progetto, un progetto che oggi vede comunque il coinvolgimento di 1200 grandi aziende, di circa 125.000 persone in termini di rappresentatività e ritenevo che tutto sommato era importantissimo avere una sede a Napoli perché noi abbiamo parlato proprio in un grande evento qui che è stato fatto alla Sessione Maritti nel 17 luglio di rilancio del Mezzogiorno. Quindi per me chiaramente il Mezzogiorno come massima espressione da Napoli in giù e quindi in buona sostanza noi ritenevamo che la nostra associazione aveva bisogno di una sede importante e quindi prestigiosa. Sicuramente avere una sede a Piazza Borsa che è stato sicuramente un luogo che ha visto passare scambi commerciali piuttosto che grandissime aziende ed imprese che hanno fatto business, che hanno fatto associazione, associazione di livello, per noi era fondamentale avere una sede qui. Abbiamo trovato una sede che è molto prestigiosa, ne siamo molto felici e oggi colgo l'occasione per dire che questa non è solo la sede di Alis, quindi una grande associazione di trasporto, logistica e tutto quello che appunto può rientrare nella galassia del trasporto, ma è anche la sede di Confalis che è una confederazione, in questo caso parliamo di una confederazione di associazioni che oggi già vede tra l'unione di Alis e l'unione di federazioni imprese una realtà con 30.000 aziende e qualcosa come 330.000 persone in termini di indotto lavorativo. Quindi come lei può ben immaginare parliamo di numeri molto importanti, di un bacino che sicuramente deve essere preso in considerazione dal governo per la sua grande rappresentatività. Il 17 ottobre è un giorno molto importante perché noi abbiamo creduto moltissimo, ma io devo dire la verità ho creduto immediatamente in questo progetto, quando poi ho visto tanti imprenditori e tanti sono quelli campani e quindi per questo sono molto felice che qui oggi abbiamo centinaia di persone che sono venute a visitare e che oggi inaugurano con noi questa importante sede, abbiamo avuto immediatamente il benestare di tutte le imprese più importanti italiane da un punto di vista trasportistico e logistico e ne sono felice perché sono aumentate in maniera esponenziale. Non dimentichiamo che noi il 17 ottobre siamo partiti in 40, eravamo 40 soci fondatori, oggi arrivare a qualcosa come 1.220 aziende associate, per non parlare di quello che rappresenta oggi la nostra confederazione con 30.000 aziende associate, addirittura come dicevo poc'anzi 330.000 persone in termini di rappresentatività è sicuramente per me un grande risultato che però le dico anche che non è assolutamente visto come il punto di arrivo bensì come il punto di partenza. Noi abbiamo guardato al rafforzamento delle attività armatoriali e quindi delle attività delle compagnie di navigazione come uno dei tasselli strategici della ripresa più generale dei collegamenti della regione con il territorio e con gli altri paesi, questo serve sia a favorire gli scambi commerciali sia al traffico passeggeri, noi speriamo che però il traffico passeggeri sia in entrata, il traffico passeggeri sia in uscita, cioè che i collegamenti marittimi servano a sostenere l'esportazione e a consentire un grande afflusso di croceristi verso la nostra regione. Stiamo lavorando insieme ovviamente alla nuova autorità di sistema portuale Napoli-Salerno per alcuni interventi adeguamento che sono necessari. Penso al dragaggio nel porto di Salerno, penso anche al dragaggio e alla banchina di Levante nel porto di Napoli e soprattutto ai nodi di collegamento con l'entroterra, in particolare il collegamento ferroviario a Napoli e il collegamento di Porto Ovest, la linea in galleria di collegamento con l'autostrada di Salerno. I porti vivono ovviamente di rapporti con il territorio e con le grandi reti. In generale la regione naturalmente sta sostenendo anche la ripresa di attività collaterali, penso al rilancio della cantieristica, noi guardiamo con grande attenzione alle riflessioni sul polo di Castellammare, della Fincantieri, noi pensiamo che quello possa diventare un grande polo dell'armamento moderno, delle navi di generazione eco-sostenibile, quindi che sostituiscono il combustibile tradizionale con il metano e con l'alimentazione elettrica, meglio ancora. Quindi è un grande tema che incrocia il trasporto ma anche lo sviluppo economico.